Questo programma è offerto da E bentornati a Chef per Passione, il portale del gusto Oggi una ricetta gustosissima, buonissima, molto toscana E si chiama la torta coi bischieri A tra poco Con IREN Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa Per esempio con IREN Casa Online hai internet e luce nella stessa offerta Scopri di più su IRENLUCEGAS.IT Io sono Martina Io sono un mix di tante cose 10% coraggio 30% libertà Mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix E mi piace così E' il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo Unici Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura Ventura, solo la frutta più buona Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è Per questo sono qui Per capire E' per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi Rende tutti quei prodotti Biscazzi Latte Basta Che in un carrello della spesa devono esserci Caffè Ancora più convenienti La lista delle cose necessarie è lunga Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni La prendo in parola, resta cena da noi? Certo Conad, persone oltre le cose Capricorno, risolverete una questione preoccupante Hai capito? Cinemino stasera? Buono Un pesto nuovo, quello vero Pesto vero, ne? Ma se ne ci muovete in finderia, puoi quale fanno le due risate Non lo che ne te la fa I se neggi un pesto non fanno proprio diverso Non è possibile E fa quello di me nonna quando io figgio Ti senti bene, Cennò Come la cosa c'è? Compagnia del pesto genovese Buono Buono E benvenuti ad una nuova puntata di Chef per Passione Il portale del gusto Allora, oggi una ricetta dolce, dolcissima Una ricetta toscana Di Pisa Vi piace? E si chiama Torta coi bischeri Coi bischeri Allora, intanto saluto i miei amici Panariello, Pieraccioni Tutti i toscani, Carlo Conti Che loro la conoscono bene questa ricetta Perché bischeri? Bischeri in realtà che vuol dire? Le chiavi per tirare le corde degli strumenti musicali Però in Toscana la usano tipo sei un bischero? Che ne so, sei uno sciocco? Sei un ingenuo? Sei un poco furbo? Sei... e non dico quello che veramente si pensa Va bene, va bene, andiamo a concludere Quindi io vi vado a leggere Anzi, accendiamo il forno Che è la cosa più importante Mi raccomando 200 gradi Eccolo qua Accendiamo il forno Ok 200 gradi E l'abbiamo acceso Ok Allora, torta coi bischeri Vado a leggere gli ingredienti E sono per 8 persone Per la pasta 600 grammi di farina 500... scusate No, 500 600 grammi di farina 125 grammi di zucchero 300 grammi di burro 2 uova 2 tuorli Per il ripieno invece Un litro e mezzo di latte 125 grammi di zucchero 200 grammi di riso 150 grammi di cioccolato in polvere 200 grammi di uva passa Pinoli E canditi La scorza grattugiata di mezzo limone Un pizzico di bicarbonato Ok Allora, vi dicevo che questa è una torta toscana Nata intorno, sembra, all'anno 1000-1200 Ho studiato, eh? Ho studiato Sembra una ricetta nata forse da una strega Forse da una fata Da una vecchietta Ma non lo so So che è solo molto buona Allora, io direi di iniziare Allora, la prima cosa da fare è quella di impastare Ora, siccome io mi sono appena messa lo smalto Ma scherzo Io vado a chiamare oggi che mi dà proprio un aiuto Proprio nel senso che gli uomini servono a casa Ma mica perché è un cuoco famoso, bravo, che lo chiamano il professore Mi serve proprio per fare proprio Ma io lo so fare, però lo farò anch'io Ma io mi dedicherò al ripieno della torta Quindi vado a chiamarlo Guarda, mi emoziono anche nel chiamarlo Mi presento Signori e signori Signore e signori The professor Matilde Brandi Come stai? Dai, io scherzo sempre, eh? Una cuoca, una ballerina Io tutto Allora, io sono una mamma Poi, quindi come tale E dobbiamo noi mamme imparare a fare tutto in casa Quindi, insomma, noi mamme siamo lì Chi fa l'avvocato, chi fa la casalinga Chi fa la ballerina come me Dobbiamo cucinare per i nostri figli Per i nostri mariti Per i nostri fidanzati, amanti Ma sai Matilde, perché hai parlato della Toscana Io intanto mi prendo qualcosa per imparare l'impastare Intanto anch'io, anch'io Anch'io, dammi le cose Questo, vieni Allora, parliamo di cose serie Stiamo parlando di questa torta Con i bischeri Con i bischeri Lo sai perché con i bischeri? Lo so, oggi chiacchiero tanto Perché, appunto, loro dico in Toscana Sei un bischero, sai Perché dopo, ora vedrete Verrà la pasta frolla, in realtà Sì, la pasta frolla Esatto Verrà poi ripiegata in un modo che escono fuori I bischeri I bischeri Questi pizzichi Pizzichi Perché a Lucca si chiamano così, no? Sembrano 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 bischeri Sembrano bischeri E voi mi avete capito Allora, che cosa sta facendo il nostro professore cuoco Non lo dico, chef Sta preparando la pasta frolla Quindi, ricordiamo Dobbiamo mettere la farina Lo zucchero Tu sei bravo La fai in una ciotola Ora, io l'avrei fatta qua Sulla spianatoia Io la faccio come la faccio a casa Non come la faccio per la mamma Sporco poco Vedi, che bravo Metto tutto assieme E impasto E impasto Io invece che cosa ho fatto prima Ho preso Allora, intanto Questo è il riso Che prima va cotto Nel latte Quindi che cosa ho detto prima Un litro e mezzo di latte Va messo il riso Sto dicendo bene, vero professore? Sto dicendo benissimo E si deve cuocere con un po' di zucchero Io già l'ho fatto Perché ovviamente Quindi abbiamo messo questi Questa farina Faccio una cosa che non va tanto fatta Ma dai Va bene, non importa Noi non guardiamo Oggi spreco due albumi Due albumi Va bene, quindi abbiamo detto Farina Burro Che abbiamo fatto uscire prima dal frigo Perché deve essere più morbido E dopo mettiamo due, tre uova Sì, ma io adesso sto facendo una dose molto ad occhio Non sto seguendo la ricetta preciso Perché non ho la bilancia Ok Però grosso modo Grosso modo così Sbagliando molto le cose Zucchero Zucchero, uova Ho messo una punta nella ricetta E si parla di bicarbonato Io sto utilizzando una punta di lievito Come agente lievitante Va bene, così Sono d'accordo con te Io ce lo metto sempre Perché mi piace un po' la friabilità E un pizzico di sale Ce l'hai messo? No, non ce l'ho messo Vedi, ti devo tirare le orecchie E lo prendo io Ma guarda, siccome siamo in Toscana Eccolo qua Siccome siamo in Toscana A me viene ogni volta che si parla Della Toscana e della cucina Viene in mente E lo ricollego a te che sei la ballerina Vado, intanto un pizzico di sale Mi viene sempre in mente Il padre della cucina italiana Il padre? Chi è il padre? Secondo te è un cuoco? È un cuoco? No, non è assolutamente un cuoco No, infatti non è un cuoco Io mi ho detto cuoco Non è un cuoco Il padre nel senso che è colui Che per primo ha scritto un libro di cucina italiana Che meraviglia Mettendo assieme Tra l'altro lui non cucinava Poi in realtà magari cucinava anche per passione Tanto il nostro regista Mario Mi sta inquadrando Guarda come mi sta impastando bene Ecco Io lo faccio meglio Oggi però avevo appena messo lo smalto Quindi E pensa che lui Ha fatto una raccolta Di tutte ricette Di casalinghe, ristoratrici dell'epoca Un libro Bellissimo Che ormai tutti conoscono È diventato famosissimo Che è L'arte e la scienza in cucina Sto parlando di Pellegrino Artusi Toscano di Forlimpopoli Che poi ha vissuto a Firenze Aspetta però Toscano di Forlimpopoli Mi stai facendo No Forlimpopoli sta in Romagna Sì Ho detto Toscano di Forlimpopoli Perché lui ha avuto da ragazzo Un bruttissimo episodio A livello familiare Briganti E si è trasferito in Toscana E poi ha svolto la sua attività Principalmente in Toscana Ok Quindi Quanto meno Toscano d'adozione Va bene va bene Io intanto sto preparando Anche io il ripieno Intanto sto mettendo il riso Che abbiamo precedentemente Cotto nel latte Latte Con lo zucchero Ok Tanto io sto vedendo Se stai facendo tutto bene Sgridami No 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 Perché Sgridami se non vado bene Sì non lo so Poi Anzi potrebbe essere carino Che poi voi ci mandate Che ne so I vostri messaggi Sul nostro portale E il professore Ha fatto un disastro No non è vero Sono sempre Sono sempre aperto alle critiche Anzi Allora Allora abbiamo detto Che intanto tu stai facendo La tua pasta Mi agevolo Mi agevoli Grazie Guarda oggi Cucinare con il professore È proprio Così Mi dà proprio Io lo voglio quasi tutti i giorni Che dite Se mi vuoi adottare Va bene ti adotto Vieni proprio a casa mia A Roma No ma io Sto tanto bene qui con voi Allora Mi fai perdere tempo Tu lavora per te Vi abbiamo detto Il riso Il riso Il riso Che abbiamo già cotto Ok Dopodiché Aggiungiamo Il cacao In polvere Vado? Prego Vado tutto Vai Me lo fa per favore Come fosse una scenografia Un balletto Dovete cucinare con la musica Perché è più divertente Voglio cucinare sempre con la musica Con un buon bicchiere di vino Assolutamente Dopodiché Allora aspetta Mi dedico un attimo Alla tua Meravigliosa pasta Ora guarda Guarda hai fatto un po' un disastro No non è vero Sei stato bravissimo Ce lo mettiamo un po' di Di farina Grazie Che non si appiccica Sulla spianatoia Perfetto Allora Devo lavarmi le mani Devi lavarti le mani In realtà Questa andrebbe Mezz'ora Nel nostro frigorifero Vero? Esatto Perché così si riposa Si rilassa Il burro si disolidifica No? Ma noi siamo talmente brave Che non abbiamo bisogno di metterla nel frigo Vero? Proviamo ad usarla subito Proviamo ad usarla subito Però in realtà Sarebbe meglio Lasciarla riposare Mezz'ora Va bene Eccola qua Eccola qua Eccola qua Prego Cosa dici? Andiamo adesso Aspettiamo Vabbè aspettiamo un pochino Dopo la pubblicità Che forse E allora Mettiamola un po' nel frigo Dai Approfittiamola Approfittiamo Vai 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 Mettiamola nel frigo Dove Ci vuole un po' di Impiattino Gravo qua La copriamo però Meglio coprirla Meglio coprirla Ce la facciamo Sempre qua E sempre qua Ah ok Eccola qui Eccola qui Perfetto La pellicola Perché se non si asciuga All'esterno E diventa un problema E ci dedichiamo Al nostro Ripieno Però tutto questo Dopo la pubblicità Con Irene Luce Gas e Servizi C'è sempre un'idea smart Per la casa Per esempio Con Irene Live Control Anche la tua casa È più intelligente e sicura Scopri di più su IreneLuceGas.it Io sono Roberto Avventura Solo la frutta più buona Capricorno Risolverete una questione preoccupante Hai capito? Cine meno stasera? Buono Un pesto nuovo Quello vero Questo vero, ne? Ma se ne escemo a vedere Finderie Poi puoi fare Le due risate Non è che ne escemo a fare E se ne esce il pesto Non fa proprio diverso Ma non è possibile E fa quello di me nonna Quando io figgio Ti senti bene C'è no Come la cosa c'è? Il programma Compagnia del pesto genovese Buona Ma cosa stai facendo? Eh, siccome il riso L'avevo cotto prima Si era un po' asciugato Quindi ci ho aggiunto Un pochino di latte Ok Anche un po' più morbido Così giusto Sì, deve essere un po' più morbido Io mi riprendo la pasta Tu riprenditi la pasta Che avevamo già messo A riposare Nel nostro frigo E io intanto Ridò Così Una bella faccia A questo riso Abbiamo aggiunto Il cacao in polvere Ricordatevi Anzi Vi rileggo Gli ingredienti Della torta dei bischeri Come dicono in Toscana E sono Per otto persone Per la pasta 600 grammi di farina 125 grammi Di zucchero 300 grammi Di burlo Burro Burlo Perché ho pensato a te Burlone Lui è un burlone Scusi Chef L'ho spaccata tutta Poi Due uova Due tuorli Per il ripieno Che sto facendo io Un litro e mezzo Di latte 125 grammi Di zucchero 200 grammi Di riso 150 grammi Di cioccolato In polvere 200 grammi Di uva passa Pinoli E canditi E la scorza Grattugiata Di mezzo limone E un pizzico Di bicarbonato Allora io vado A grattugiare Un po' di limone Maestro Quale dei due Questa Questa È un più grande Lavori meglio Se no ti si rimane Tutto appiccicato Tutto Questi li abbiamo lavati In precedenza Però siccome non mi fido Non mi fido Lo rilaviamo Bisogna lavare bene Tutto Ok Prendiamo L'asciughiamo È importante Guarda che ordine Dimmi che sono brava Bravissima Ok Io invece sto facendo Un po' un disastro Con la pasta Sì ti vedo Ma io Non inquadra Guarda che disastro Perché poi dopo Chi ci vede da casa Dice madonna Matilde Ma che inviti tu In questa trasmissione Eh lo so Lo so È molto calda Purtroppo ci sono dei riflettori Eh lo so Infatti per quello Deve stare Oddio Scusate Non succede Non deve succedere Ma succede Perché in casa Non è tutto perfetto Non importa E noi continuiamo Vero Ma scusa Noi stiamo Cucinando in diretta In diretta Anzi 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 Se vi siete perso Qualche ingrediente Potete andare Su chefperpassione.it Io direi Io sono stato Molto Ma molto Ma molto Ma molto Più veloce di te No vabbè Ma io Chiacchiero Perdo tempo Poi aggiungiamo L'uvetta E ce la mettiamo Tutta Tutta quanta Poi aggiungiamo I canditi Poi aggiungiamo I pinoli E mi sembra Basta Abbiamo aggiunto Tutto Direi di sì Direi proprio di sì E amalgamiamo Allora se dobbiamo fare I Come si chiamano Noi vecchi Noi pinzi I becchi Avevi ragione Con il latte Te ne posso aggiungere Con una doccia Tu devi dar retta A chi non lo fa Di professione Questo lavoro Perché chi ci sta Guardando a casa Ma non sono tutti Cuochi professionisti E quindi Noi cuciniamo Come Matilde No come In cucina da Matilde In cucina Non sarebbe male Chef per passioni In cucina da Matilde Vediamo che combina Va bene Va bene Allora Guarda Molto meglio Molto meglio Lo zucchero Ce l'abbiamo messo Professore? Sì sì Ce l'hai messo No non ce l'ho messo Non ce l'hai messo No quindi va messo Lo sai perché sta lì pieno Ti stavo per bocciare Esatto Chissà i tuoi allievi Se ti Quando ti vedono a scuola Cosa pensano Un professore cattivo Io lo dovrei chiedere Eh glielo vorrei chiedere anche io Eh glielo chiediamo? Chissà Di solito mi dicono Che non sono tanto simpatico Ma è tutto fumo E niente arrosto Come si dice a Roma Allora Mi sembra Che abbia una bella faccia Bello Allora Adesso Facciamo questa cosa Vado E versiamo il contenuto Che ho appena Terminato di Fare In codesta Guarda Guarda che meraviglia Questo cacco di E me lo mangio Che buono Allora Questo è buonissimo Non so quello che hai fatto Tu con me La torta non viene bene È colpa della mia pasta È buona sostanza Ho capito Esatto Perché ripieno è buono Tra l'altro Guarda che meraviglia Ma guarda come sono Guarda qui non c'è stato preciso Vabbè non fa niente Chiudiamo un occhio Ci facciamo i biscari Vedrai che Eh Esatto I biscari I biscari toscani Questa gliela portiamo A Carlo Conti Carlo ti porto La tua torta Lui è di Firenze Questa è un po' È torta di Pisa Di Pisa Di Pisa Però è una ricetta Che poi Allora a casa si fa È inutile che non lo faccio Eh via Su Così poi Si fa pure così Ok È buono davvero? È buono Oh ok Lo assaggiato Assaggia No Io mentre lavoro Non assaggio Che paravento Che è Cioè Mi fai perdere tempo Su Che i nostri Telespettatori Sono lì Pronti a capire Cosa Cosa verrà fuori Da questa cosa No no Ecco dai No va bene Va bene Io ho la pasta Molto morbida E quindi sono un po' In difficoltà A dare le pizzicate Che dicevamo Allora facciamo I becchi I becchi Pensa Che a Lucca Si chiamano i becchi E qui può essere Anche una variante Che al posto Del riso Insomma con la cioccolata E tutto il resto Ci si può mettere Anche la ricotta E gli spinaci Vero? Vero Poi il riso Noi in Italia Siamo fortissimi Lo sai Matteda Perché il riso Questo alimento Che utilizziamo Io lo adoro Il riso Noi siamo I produttori Più forti In Europa Vedi Abbiamo Coltiviamo 126 varietà Di riso Nel mondo Non esistono 140.000 Però siamo I più forti In Europa E siamo Tra i più forti Al mondo Alla produzione del riso Perché un ingrediente Eccezionale E' stata la base Ci si può fare Veramente Tante ricette Ed è stata la base Alimentare Di parte La popolazione italiana Per tantissimi anni Poi adesso Non usiamo la pasta Però prima Era molto regionale Il riso In certe regioni Era proprio L'alimento Fondamentale Bene Detto questo Mamma mia Quando gli attacca Che chiacchierà Però noi dobbiamo Infornare Vado in forno Nel nostro forno Già caldo Ok Va bene questo piano Di cottura O più alto Va bene così Ok Abbiamo detto Ricontrollo 200 gradi Per 20 minuti 20 minuti Sì sì 20 minuti Quindi oggi Non si mangia Allora Siccome giustamente I tempi Sono quelli che sono E quello che aveva fatto Il nostro professore Era un po' Io l'ho preparata prima Ma non ti fidi Della mia pasta Attenzione No mi fido però Va bene L'ho preparata prima Ta 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 Ed eccola qua Guardate che meraviglia Ti piace? Mi piace Però lo voglio assaggiare Eh certo Allora prendiamo il piatto E cominciamo Ad impiattare Guarda 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 Ah di qua il piatto Vedi Quale preferisci Faccio scegliere Allora vediamo Vediamo quale mi piace di più Non lo so Vedrai più questo Lo sai perché Alla via Più da dessert Ok Allora te la faccio tagliare a te Perché se no Che sei venuta a fa? A tagliare la torta Ad impiattare la torta E vi aspetto sempre Fare così Se ne avesse voglia Guarda qua Senti ma ci si può mettere anche Del gelato Non ce l'abbiamo noi Però anche tipo del gelato alla crema Del gelato alla crema Un po' di frutta secca Certo La frutta secca sempre Perché la frutta secca fa bene La frutta secca fa bene La granella di nocciole Per esempio Che ci piace tanto Io la metterei un po' sopra Sì Guarda che bella E poi voglio fare un'altra cosa Sto facendo fare un bel piattino Alla fine Sta venendo fare un bel piattino Io mi assaggio quella fatta Aspetta 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 Voglio mettere anche questa Anche questa Perché poi chiaramente ci si diverte Guarda Cioè tipo Sto facendo una schifezza Ma tu non guarda Non ti preoccupare Non è vero Perché tipo Ma c'è un po' di zucchero a velo? C'è lo zucchero a velo? Non ce l'ho portata in mano Non ce l'hai portata in mano Non ce l'hai portata Questo non è Eh lo zucchero a velo In questa cucina manca Va bene Domani vado a fare Eccolo No questo è lo zafferano Non c'è lo zucchero a velo Va bene Posso controllare Controlla se c'è lo zucchero a velo Vabbè non importa Se non c'è lo zucchero Ce l'abbiamo di là Sai nel magazzino principale Va bene Non importa E allora niente Zucchero a velo Che cosa ci aggiungiamo? Guarda Anche se non è zucchero a velo Però nelle torte un po' casalinghe Un po' di zucchero semolato Secondo me non ci sta mai male Guarda Devo dire che Alla fine è venuta una bella Allora Qui ci vuole la forchettina Però questa è un po' grande Non ce l'abbiamo una piccina No no Ma sai che ti dico? Vado con quella Forchetta grassa Boccone grosso Ma senti Sai che faccio? E chiudiamo in bellezza Assaggio Torta coi biscari Chefperpastone.it Ci vediamo la prossima puntata Mi raccomando Fatelo tale e quale Ciao Passaggiare? Pesco da qua Questo programma è stato offerto da Con IREN Luce Gas e Servizi C'è sempre un'idea smart per la casa Per esempio con IREN Casa Online Hai internet e luce nella stessa offerta Scopri di più su IREN Lucegas.it Io sono Martina Io sono un mix di tante cose 10% coraggio 30% libertà Mollare 0% 10% dubbio 20% avventura 30% energia 100% mix E mi piace così È il mix delle cose più buone Che ci rende quello che siamo Unici Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura Ventura Solo la frutta più buona Nessun uomo è un'isola E neanche un supermercato lo è Per questo sono qui Per capire È per milioni di famiglie Come questa Che abbiamo creato Bassi e Fissi Rende tutti quei prodotti Biscazzi Latte Pasta Che in un carrello della spesa Devono esserci Caffè Ancora più conveniente La lista delle cose necessarie È lunga Ma da noi Tutto ciò che conta È a prezzi bassi e fissi Tutti i giorni La prendo in parola Resta cena da noi? Certo Conad Persone oltre le cose Capricorno Risolverete una questione preoccupante Hai capito? Cine mino stasera? Buono Un testo nuovo Quello vero Questo vero, ne? Ma se ne ci muovete un film Non è possibile Che fa' quello di me Non è possibile Nonna quando io figgio Ti senti bene Come la cosa facciamo? Compagnia del pesto genovese Buono Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile